La maggiore unitarietà e incisività della politica estera e di sicurezza comune al fine della felice soluzione della crisi in Iran, della paziente ricerca di intese per la Siria e in Libia e contro la maggiore complessiva minaccia, quella del terrorismo fondamentalista islamico. È necessario accompagnare a motivate insoddisfazioni e critiche per il presente Stato dell'Unione Europea l'attenzione a non avallare mai nessun catastrofismo e questo è il compito di tutte le forze europeiste.